Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Cometa Rossa. Ovviamente il ritardo come il nostro genere, il nostro stile è questo, quindi anzi no, per carità ci scusiamo con tutte le persone che ci stanno ascoltando, mi raccomando cliccate play, chi non l'ha fatto non mi può sentire, quindi è inutile che io sto qui a ripeterlo. Oggi siamo riuniti in un posto segretissimo nel cuore della città di Avellino e abbiamo un ospite speciale. Ecco a voi, Healthy God. Grazie a tutti. 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 una cosa abbastanza istintiva nel senso penso qualunque persona che suona e scrive la sua musica la vede allo stesso modo è una cosa che non è che decidi più che altro suoni e quindi hai uno strumento appunto un mezzo per fare qualcosa di creativo e perché usarlo solo per fare qualcosa di qualcun altro non per fare qualcosa di tuo quindi è la musica che ha cercato te magari se vogliamo sì ma credo che valga un po' per tutti non penso ci sia niente di arrogante nell'affermare che alla fine è una cosa che ti viene spontanea altrimenti non senti proprio la necessità di farlo e invece il nome a parte che non vuoi far sapere alla tua mamma che suoni il nome è un po' una traduzione, un gioco di parole col mio cognome mi piaceva come suonava è bello adesso che ci penso sì mi viene da sorridere perché dico no non ci avevo pensato con questa traduzione diciamo particolare del cognome di cosa parlano le tue canzoni che cosa ti piace affrontare è difficile sì è difficile non lo so credo che alla fine ogni canzone sia una storia a sé voglia raccontare qualcosa che nel senso tu comunque con la musica credo che esprimi delle cose che in generale con l'arte che non potresti esprimere in nessun altro modo mi ritengo una persona abbastanza introversa quindi un sacco di cose che non riesco a dire in un altro modo le metto nelle mie canzoni poi possono essere cose belle di momenti belli possono essere cose brutte però mi piace anche scrivere testi un po' che lasciano un po' spazio all'immaginazione perché alla fine la metà è sempre di chi la fruisce l'opera non solo di chi la fa quindi un sacco di cose che scrivo possono avere un sacco di significati per me in un dato momento e ne possono avere altri per altri in altri dati momenti è una questione molto relativa ok ma ti va di fare qualche altro pezzo prima di affrontare qualche altra domanda e di soddisfare qualche mia curiosità sono un pessimo interlocutore quindi a me che sono ok scusate mi ha fatto un attimo ridere il gatto si vede qua questa scena è fantastica purtroppo non potete vederla voi che siete a casa e ci state ascoltando ma vabbè lo possiamo dire che è un gatto rosso molto famoso qui ad Avellino è salito in braccio ad uno dei nostri ospiti d'eccezione di stasera quindi stava facendo l'amore con Mir stavate facendo amicizia vedo poi cercherò di evitare di guardare in questa direzione che si vede And I'm feeling bored, cause it's about my stuff, funny habits And I'm nowhere here, and nowhere I'll ever land But the season's game, the half of these are clouds Oh, it's raining sounds, the seas I will never stop Until the highs will be bright, oh And I'm over-weak, a tree-colored to believe in The same old fear to wash my tears with a smile And my chance is lost to pray my name on a door And my phone will write to land soon as they told But the season's game, the half of these are clouds Oh, it's raining sounds, the seas I will never stop Until my house will be bright, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh appena suonato era Rain In Sand, vero? Sì, è la prima dell'EP che ho registrato un annetto fa. Di questo EP? L'ho registrato e prodotto... Screw You All? Sì, Screw You All a Murphy God, che vuol dire fottetevi tutti. Però è una cosa che qualcuno l'ha presa un po' male, però in realtà voleva essere ironico, era un modo per di ciao, sono Daniele, questo è il mio EP. Sì, l'ho registrato tutto io, l'ho prodotto tutto io e ho avuto qualcuno che mi ha aiutato a suonarlo, a suonare qualche parte, però in generale erano pezzi che avevo covati da un sacco di tempo che avevo registrato, quindi avevo un'idea abbastanza chiara di dove volessi andare, quindi ho voluto avere una supervisione un po' del tutto. Poi suonando da solo mi sembrava più ovvio fare così piuttosto che avere l'intervento di persone che magari non erano persone in cui suonavo, cioè perché non è venuto fuori da una band questo EP, ma è venuto fuori da qualcosa che era solo nella mia testa, quindi mi è sembrato il modo più naturale per farlo venire fuori come doveva venire fuori. Quindi proprio l'autoprodotto è praticamente un pezzo di te, come dire. Invece a proposito dell'etichetta a cui ti sei rivolto? L'etichetta è un'etichetta DIY di Emanuele Altieri che è un mio caro amico, anche cantante di vacanza, che anche lui suona con i nostri ospiti Mirko e Giovanni, Culture Wars, perché alla fine credo che uno credo nell'autoproduzione, nei mezzi internet, nel momento che stiamo vivendo in cui non c'è bisogno di avere un'etichetta o di insomma qualcuno di più grosso di te, tra virgolette, che ti spinga, ma è solo una questione di suonare in giro, cercare di suonare il più possibile. Due perché credo nel sud, cioè mi piace l'idea che appunto alla fine ho fatto uscire anche vacanza e spero che una cosa che diventi sempre più grande in senso buono. Mi piace l'idea che anche noi facciamo un sacco di cose, anche se veniamo ascoltati meno purtroppo, ma non per una mancanza di forze, di qualità secondo me è più per una questione di strutture. Sì, anche perché il mondo dell'underground, del do it yourself è abbastanza vasto, quindi spesso forse rischia di restare un fenomeno geograficamente localizzabile, cioè nel senso che per dire noi che cerchiamo in tutti i modi di mandare musica o di fare interviste di gruppi autoprodotti, è ovvio che c'è più facile, più alla mano, a portata di mano, una quantità X di gruppi campani piuttosto magari che di gruppi appunto del nord. Ah sì, sì, quello sicuramente, però riferivo più al fatto che anche nell'ambito indie si stanno iniziando a creare un po' di monopoli se vuoi su determinate cose, no? E questi monopoli sono spesso al nord, le etiquette più importanti, le fanzine più importanti, i portali più importanti, quindi cioè insomma c'era proprio un po' di miopatriottismo nel fatto di voler dire che un gang a sud facciamo un sacco di cose belle e forse se veniamo ascoltati meno e se noi stessi, ma che ascoltiamo più in realtà che al nord, se non bando poi quelle che abbiamo vicino, per un fatto comunque che loro sono organizzati meglio semplicemente, basta. Anche a livello magari di mezzi, non a caso noi per dire che siamo una radio indipendente fatta in casa, quindi insomma ci arrangiamo con quello che abbiamo. E dirla proprio nel modo più semplice possibile, ci sono più soldi al nord, quella è l'unica cosa che alla fine fa in modo che le cose funzionino in modo diverso rispetto a qua, vabbè ma non si vuole fare una polemica razziale, l'ordidio. No, no, beh a questo punto non so se ci sta ascoltando però mandare un saluto anche a Nando che ha fatto il mastering dell'EP, Nando Farro. Ciao Nando, maybe I'm, Farro, mastering dell'EP. Che noi siamo tanto, non solo tanto amici, ma tanto fan dei maybe I'm di Nando. Va bene, se ti va di suonare un altro po', noi siamo tutto orecchie. Ah, ok. Allora, giusto un goccio d'acqua mentre... Ma queste notti, che vai facendo in giro che puoi? Preso freddo. Preso freddo, eh, gli amici possono, che ci possono raccontare, dove lo portate poi la sera? Ad Agropoli che si prende molto freddo. Ad Agropoli fa freddo ma... Ma non è vero, non mi devo far passare però, grazie mille. Ebbè, giusto appunto il tempo di un sorso d'acqua. Grazie Dan di KT. Saluti dai pastori. Saluti dai pastori. Rivelatevi, non abbiate paura. Ok, arrivano un sacco di messaggi sconci. Ah, forse i Calas Tales, sì, è un giovane gruppo agropolesa... Li salutiamo allora. ...molto promettente. Grazie a tutti. Ciao. 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 ! e questo pezzo cos'è? si chiama piccoli fagioli verdi davvero? sì un pochino ce lo dovresti spiegare almeno da cosa nasce è lunga la storia perché vedo che si fa un altro sorso d'acqua per prendere tempo si sta temporeggiando quindi chissà quale tasto stiamo andando a toccare dopo mi picchierai no questo è un pezzo come dicevo prima c'è più allegorie che cerco di dare più che una storia vera e propria in questo pezzo si parla di gelati di bambini di serpenti fantasmi e di bombe tutto nello stesso pezzo un po' non lo so cioè mi piace dare delle immagini più che dire qualcosa che alla fine è qualcosa che può lasciare più porte aperte secondo me più interessante forse è anche la mia scusa perché non so scrivere testi allora butto le parole a casa diciamo sbattetevi perché significa perché non lo so adesso la fatica la dovete fare voi per interpretare i testi no vabbè anche bello perché è vocativo quindi mi voglio levare un po' di responsabilità di dosso mi voglio dare un po' all'ascoltatore mi sembra giusto mica possiamo fare sempre i passivi che ascoltano e basta dobbiamo metterci anche noi ti metto a lavorare un po' di fantasia giusto qui insomma altri messaggi vi salutate Cattina che è fra il pubblico Mattia ciao poi vabbè Max clap 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 quindi applausi anche da chi ci sta ascoltando applausi per fibra ma qualcosa tipo anche del prossimo disco insomma cosa bolle in pentola quali novità bolle in pentola che io sono stato lontano dall'Italia per un po' adesso che sono tornato al figotto è diventato un duo e sogniamo io un altro ragazzo Raffaele che sei in onda saluto diciamo che a me cioè io ero partito come prima di fare questo progetto come un chitarrista un po' più rock cioè mi è stato piaciuto un certo di musica anche un po' aggressiva e il fatto di andare sul candatoriale non è stata un cioè diciamo più che altro ho dovuto sacrificare un sacco di parti di cose che volevo fare perché comunque non funzionavano in questo contesto non funzionavano solo chitarra e voce e adesso ho un po' voglia di di scatenarti di mettere distorsione urlare un po' fare un po' il cafone sul palco insomma ma adesso ci fai qualcosa sempre dell'EP o ci anticiperai durante la serata insomma durante la diretta qualcosa non lo so vi posso anticipare carta bianca proprio qualcosina sì posso però sempre se dipende dal manager se il mio manager è d'accordo Mirko non lo so va bene sono d'accordo sono belle le elezioni ok ho l'ok del mio manager quindi sì ok va bene quindi non so ne faccio un'altra vecchia tra virgolette va bene come preferite dici che dobbiamo scegliere tra il vecchio o il nuovo non si possono fare tutti e due no posso vabbè che se facciamo così praticamente ce lo teniamo fino probabilmente all'alba all'alba poi c'è il parcheggio ah no vabbè quello era fino alle 8 per fortuna dai fino alle 8 quindi siamo tranquilli sì 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 vabbè visto che il parcheggio lo avete pagato io approfitto quindi ti faccio fare sia il pezzo vecchio che quello nuovo va bene musica maestro the poison world much then it stops when it bombs all my heart then just like a fire explode and I couldn't sell if it as for my daddy to know is somebody that I all know a thousand of the wells will dry the lake where I've drawn all of my tears all of my tears for you yeah all of my tears for you I wish I wish I could hide my shameful mistakes I wish they forgot all the mess I've made I'm around with your dust I wish they won't strike I wish they won't strike straight to my heart the poison world will water my flowers and plants so they'll disappear so they'll disappear and burn and I'll sell your veins and I'll choke every breath that you make so then I'll feel safe for now a thousand of wells will piss in the lake where I've drawn all of my tears for you yeah all of my tears for you I wish I could hide my shameful mistakes I'm around with your dust I wish they forgot all the mess I've made I'm around with your dust I wish they won't strike straight to my heart I wish they won't strike thank you thank you there was a request you sing a song Mr who is? always K 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 salutare, non lo so se ci sta ascoltando però volevo salutare Mario Orsini perché perché lui mi ha venduto il disco The Culture Wars quindi mi sentivo di insomma di doverlo ringraziare anche in diretta mentre tu stai scordando la chitarra volevo fare un'altra piccola riflessione avresti chiederti qualcosa a proposito sempre del mondo in The Underground di cui fai parte non lo so se restare ai margini di circuiti più diciamo conosciuti ecco di tenere di tenersi un po' in disparte un po' appunto magari perché ci troviamo al sud e non al nord un po' perché magari si suona appunto da un paio d'anni o ancora insomma bisogna fare il proprio solco il proprio cammino non è che questo dà un valore aggiunto alla tua musica cioè nel senso che altrimenti il fatto di non mi conosce nessuno no non questo però dico è ovvio che uno parla della tempesta parla insomma però sono cose che bravo sono cose anche un po' più diciamo omologate cose in un certo senso più modellate sui gusti degli altri allora c'è un valore aggiunto diciamo proprio nella libertà di essere ma non c'è non solo da parte mia penso penso pure per la tempesta ci saranno sicuramente degli artisti assolutamente liberi però poi magari inserito in quel contesto là cioè io non lo so penso al teatro gli orrori che per me ha fatto due dischi molto belli e il terzo mi ha deluso molto perché secondo me nel terzo anche involontariamente magari sono voluto andare incontro a delle aspettative che c'erano da parte del pubblico cosa che se non sei nessuno tra virgolette può permetterti di non fare però è un cioè dipende perché è un discorso molto complicato dipende sempre da quando ti senta libero tu perché a me può influenzare anche il parere di un Mirko che è un mio amico perché nel mio piccolo quello è il mio pubblico può influenzare un tuo parere può influenzare il fatto che se io faccio un EP di sei pezzi la maggior parte dei click avviene su un pezzo in particolare piuttosto che su un altro poi sta a me avere l'indecrità di dire prima di tutto devi piacere a me prima di tutto devi rappresentarmi e poi cioè il discorso del commerciale anche a livello piccolo deve venire dopo secondo me è una questione esistono artisti mainstream che secondo me sono liberissimi e fanno la musica che gli pare e quindi è una questione di attitudine di saper una volta anche arrivati a determinati livelli sapersi far rispettare la musica che si vuole fare e avere il coraggio di fare sempre quello che si sente a proposito della musica che tu ti senti di fare quindi che ne so il nuovo disco i nuovi pezzi a parte appunto trovare magari suoni più distorti diciamo altri elementi cosa ci aspetterà? ma... ancora non lo so stiamo lavorando ancora cioè ancora in fase molto embrionale quindi non credo che esca prima di settembre o giù di lì spero che tornerai a trovarci poi quando si magari vengono in due e facciamo un po' di casino io ho quasi accordato non lo so hai quasi accordato o scordato? scordato in un'altra tonalità ciao sono una grande fan di healthy god e anche dei culture wars e vacanza siete una squadra fortissimi sai che sta parlando come si è affermato? saico saico questo secondo me è Fulvio è Fulvio ti assicuro che è Fulvio ciao Fulvio ciao Fulvio e anche Alfredo vogliamo non lo so ciao Alfredo ciao Alfredo e beh io direi di fare qualche altro pezzo di libertà ok credo di esserci con l'accordatura aperta se no insomma possiamo pure improvvisare una barzelletta sto scherzando abbiamo Mirko qua sono troppo guarda hanno scelto un punto strategico perché si sono messi lontani dai microfoni lo hanno fatto apposto con la scusa che lì ci sta il divano e quindi stanno comodi non vengono qui a intervenire va bene allora dai adesso perdiamo un po' vieni qua perdiamo un po' tempo io ho fatto una notte in bagno comunque Psyco è Fulvio è Fulvio ha confermato ah non è Fulvio scusami non è Fulvio vabbè non si rivela resta il mistero resta il mistero speriamo che dopo insomma ci dia qualche altro indizio a parte questo pseudonimo iccocchiano ciao parlo da qui volevamo chiedere a Psyco se è maggiorenne se può inviarci delle foto e eventualmente un recapito telefonico grazie perfetto beh allora i culture wars vedi tu guarda i casi della vita insomma stasera è venuto è venuto Daniele accompagnato da ragazzi che non avevo mai visto prima piacere piacere comunque loro sono i culture no piacere piacere tre ore più sparte diceva un celebre poeta no è che noi eravamo al bar a grattare gratta e vinci come tutti i giorni e ci chiama Daniele e fa guarda noi stiamo io sto andando a vellino mi fate compagnia quindi siamo venuti qui poi volevamo anche però non abbiamo dimenticato anche un tamburino qualcosa volevamo contribuire un po' alla sua musica che però è già così bella di per sé quindi non ce n'è bisogno insomma l'avremmo sì peggiorata fondamentalmente vabbè lui forse vi avrebbe ceduto un po' di spazio volentieri penso considerando quanto è pigro è probabile che l'avrebbe fatto state approfittando del fatto che si è momentaneamente allontanato è in bagno quindi adesso esatto anche quando è presente non c'è problema quindi sì beh ma allora posso approfittare per farvi un paio di domandine vai su Poptism che a me è piaciuto tanto grazie infatti prima canticchiavo il vostro pezzo nan 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 che vedi per me è ingiusto che voi siete qui non posso sfruttarvi e farvi suonare magari ci organizziamo per qualche volta quando comprerò una chitarra acustica potremmo fare qualcosa del genere ma ce ne sono tante qui prendi un'impressione allora non voglio insistere però la diretta ci spaventa però dovete anche venire a suonare l'avellino quindi noi ci dobbiamo mobilitare insomma magari ne parlavamo prima manchiamo da quando avevamo un trio che si chiamava Shival e che era insomma facevamo una sorta di doom stoner rock molto pesante erano i tempi del black house con ancora Vito eravamo in realtà eravamo frequentatori molto più assidui di Avellino in quegli anni lì rispetto ad adesso prego ciao amici è tornato Daniela al bagno allora ti presto un pezzetto ti avvicini più a me così ti cedo poi parlarmi un po' di poptism del vostro approccio alla musica di cosa vi piace trasmettere a chi vi ascolta ok dunque questo disco diciamo che passa per un full length si dice così no? perché avevamo un bel po' di pezzi vecchi da registrare c'è un amico che ci invitava a farlo Antonio Moki in arte abbiamo registrato su questi pezzi insomma e adesso non li suoniamo già più perché è diventato erano già vecchi poi li abbiamo registrati poi li siamo scocciati adesso ne stiamo facendo i nuovi e aspettiamo che Fallo Dischi ci dia la Vallo per il prossimo disco perché nel frattempo stanno facendo uscire un sacco di disconi e quindi non c'è spazio per noi maledetti loro e a proposito ops ho dato una P di troppo a proposito abbiamo parlato della fine che sarebbe Emanuele e che veramente si sbatte per il do it yourself ci mette anche un bel po' di soldini quando è il caso perché poi parlavamo di questa cosa del fatto che non è vera perché noi in realtà siamo ricchi i soldi ce li abbiamo più di più di quelli del nord la tempesta la tempesta ce la accattiamo ci compriamo tutto non ce ne fotte niente allora a parte la fine che abbiamo già nominato prima facciamo tu nominavi Mario Mariuccio e quindi si perché il disco è uscito appunto per la fine Fallo Dischi che come dicevo adesso hanno fatto anche un sito fallodischi.it dove si può ascoltare la musica si possono comprare i dischi e sta uscendo bello a parte il fatto che la loro uscita 001 è stato il nostro EP che secondo me non so penso anche secondo Giovanni forse era anche più bello del disco e quindi se non fosse stato per loro probabilmente Galtur Wars sarebbe rimasto un nome su Facebook di gente che faceva posto stupidi cose così e no alla grande c'è il disco nuovo dei Minis c'è ecco prodotto quello dei Minis molto bello esce un cd in vinile e tra l'altro settimana prossima sì esatto c'è il se ti diverti sei uno stronzo terza edizione e ci sono è una due giorni Mamamoo il venerdì è sotterraneo il sabato e si pagano due euro a serata quindi niente e ci saranno veramente tutti i gruppi fallodischi ci sono i Watt Contemporary Minis che scendono da Bologna i Minis che scendono da Milano poi ci siamo noi ci sono i Lamo la via degli astronauti ci sono tutti insomma e sarà una bella festa quindi se siete non so magari qui siamo ad Avellino però ci sono molti ragazzi speriamo molte ragazze che studiano a Napoli quindi se siete lì fermatevi per il weekend perché ci si diverte insomma giusto poi dai è vicinissimo quindi non ci vuole niente a raggiungere grazie mille adesso infatti lasciamo un altro po' di spazio a Daniele e buon ascolto però faccio lo slide che non lo so ci sono ancora stai imbarando quindi veramente grazie 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 di fare questo gioco di parole pure perché è una canzone abbastanza sghemba anche come ritmo, abbastanza storta quindi mi piaceva l'idea di chiamarla così a livello di personaggi che hanno influenzato la tua musica se ci sono dei musicisti a cui ti senti particolarmente regato ce ne sono innumerevoli penso che ogni persona ogni musicista poi fa parte di una fase della tua vita, poi significa qualcosa quando avevi 12 anni, significa cose diverse quando non eri 25 come adesso che sono terribilmente vecchio all'inizio sono cresciuto che verdena, poi nirvana, nirvana, nirvana non ho mai sentito non so perché non lo divertevo, qualcuno ci mi ha parlato e poi non lo so mi piace Tom Waits mi piace Leonard Cohen mi piace Nick Drake però dire che mi ispira a loro è un'offesa secondo me che gli faccio nel senso poi uno penso anche involontariamente peschi un po' tutto quello che gli piace cercando di tirarne fuori un linguaggio suo e invece per quanto riguarda i testi queste cose qui non so se ti ispiri a qualcosa in particolare leggo qualcosa in inglese ogni tanto vabbè poi sono stato vissuto per quasi un anno a Londra quindi ho affinato un po' la lingua allora ma è per questo che canti in inglese? ma in realtà è iniziata come una maschera e per il fatto che forse di fare i testi in italiano mi vergognerei un sacco di quello che dico però alla fine mi è venuto anche abbastanza spontaneo perché di musica in italiano l'ascolto rende poca non per uno snobbismo perché mi piace prima musica americana e inglese quindi avendo anche affinato il mio orecchio a quel tipo di musica là mi viene più naturale cantare in inglese ok ma adesso ci suoni qualche altra cosa oppure ti stiamo spremendo troppo? non lo so non lo so che era là? è l'ultima ma quando è nascita la Peroni? come fate a trovare i Peroni ovunque andate voi? cioè noi qui capite? lui a suonare io a parlare nessuno ci è venuto a portare la birra ma ti rendi conto? è una specie di protesi dei Caccia di Wors la Peroni quindi mentre tu ti fai un sorso di birra io volevo annunciare un grande concerto se il nostro supervisore segreto ce lo permette in pratica è un evento importantissimo per me epocale perché poi stiamo parlando di grandi oh ah grazie grazie Stefano per la birretta no va benissimo saluta per noi mentre poi Daniele Sonera io provvederò a fare un paio di sorsi alla salute di tutti i presenti e di chi ci sta ascoltando però prima volevo appunto annunciare questo concerto a cui tengo molto piangerò tantissimo lo dico già in pratica è un evento organizzato dal Godot da Wake Up in Dream io sono emozionato solo a dirlo perché già capisco ci ho provato a Ghigardia perché immagino me a questo concerto disperata dall'amore che provo per questi due personaggi d'eccezione loro sono Baby D e Lidlenni per la prima volta in assoluto ad Avellino insomma saranno qui ad Avellino il 10 maggio che è venerdì si esibiranno all'ex asilo patria e lavoro e per qualunque altro tipo di informazione si possono rivolgere al Godot io già capisco il cuore sciolto perché Baby D è un pezzo della mia anima non che Lillenni anche beh dopo aver detto aver fatto questa piccola parentesi di sogno perché come dico io la cometa rossa è un condensatore di sogni mi pigliano per pazza tutti mi dicono questa è sta di però per me è così nel senso che dentro ci troviamo appunto sogni, emozioni, musica musica soprattutto indipendente autoprodotta ma anche teatro teatro indipendente documentari il caffè filosofico organizzato dal Godot con Leonardo ah Leonardo che probabilmente ci sta ascoltando quindi lo saluto con tanto 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 affetto in più Giuseppe Pavarese con i nostri incontri di lettura collettiva parola di lettore e quindi un po' di tutto dai seminari così come non lo so abbiamo parlato di Siria ultimamente approfondendo tramite dibattiti anche un bel documentario questo argomento quindi chi più ne ha più ne metta e quindi sì siamo qui dopo aver parlato di queste cose belle e importanti torniamo al Figod ma no noi siamo orgogliosi di averti qui oggi davvero per me è importantissimo quindi anzi continuare grazie tantissimo a voi che mi avete invitato per mi dare l'opportunità di suonare qua davanti a tutti voi davanti al vostro pubblico virtuale anche no davvero grazie a te grazie anche a chi ci sta ascoltando perché ci supporta e quindi ci sopporta e ci sopporta soprattutto ok grazie a tutti 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 grazie a tutti